Cos'è questa macchina di cui stava parlando? È una forza che ci opprime, che cos'è? Stavo parlando dei robot, giusto? Ah, potrebbero essere i robot, potrebbero essere i robot, ma diciamo che è una metafora. Ha detto che questa macchina ci opprime, che cos'è? Cos'è che ci priva dell'essere liberi? Signorina Drey. Le prigioni. Assolutamente. Ha detto bene, prigioni, esatto, le prigioni ne fanno senza dubbio parte, che cos'altro? I bianchi. Beh, anche loro non fanno parte, l'essere umano. La scuola. La scuola, esatto, l'intero sistema educativo è parte integrante della macchina, che cos'altro? È lei questa macchina, professore? Non ti permette, ma signora. Che cosa hai detto? Non è lei questa macchina. Stai dicendo che sono io? Sì, lei è bianco e lavora a scuola, giusto? Eh già, e non hai tutti i toni. Bene, faccio parte di questa macchina, ma se ne faccio parte io, ne fate parte voi. Ne facciamo parte tutti, ne abbiamo già parlato, vi ricordate? Ogni cosa è creata da forze contrarie. Possiamo opporci alla macchina, ma tutti ne facciamo inevitabilmente parte, giusto? Io lavoro per il governo, la scuola, ma allo stesso tempo sono contrario alla sua politica. Voi detestate venire a scuola, giusto? Sì! Non ho sentito, come? Sì! La detestate, ma ci venite lo stesso. Sì, ogni tanto, esatto.